Benvenuti al corso di computer di BR1 Brown. Questo corso sarà diviso in quattro lezioni. Le basi, come gestire file e cartelle, internet e la sicurezza sul proprio computer. Benvenuti alla prima lezione di questo corso. Oggi parliamo dell'utilizzo basilare di un computer, quindi come si accende, cos'è un'utenza di Windows e i limiti che può avere un computer. Partiamo da come si accende. Si accende con il simbolino che vedete sotto di me. Il cerchio con la barra in mezzo, che è universalmente riconosciuto come pulsante di accensione. Lo avrete già visto da qualche parte. La particolarità però di questo all'interno del computer è che ha potenzialmente, in base a come lo premi e in che situazione, un effetto diverso. Se lo premete quando è spento, si accende e se lo premete quando è acceso, si spegne. Se invece lo tieni premuto, gli dai un segnale di allarme. Lo allerti. Quindi se succede qualcosa, non tenerlo premuto, a meno che non sia veramente bloccato e non riesci più a far nulla. Perché, come vedi qua, se lo tieni premuto da acceso, si spegne fortissimo e se lo tieni premuto da spento, si accende in una modalità provvisoria, dove hai più controllo e meno sicurezza come persona che sta usando il computer. Quindi non andare mai in modalità provvisoria non ti conviene, è solo per i super espertoni. Quindi, fermati lì. Una volta che lo accendi, tu entri come utente, che ha il tuo nome, il mio in questo caso è Bruno Bianchi. Gli utenti si dividono in due categorie, gli amministratori e gli ospidi. Gli amministratori sono letteralmente i proprietari di casa, quelli che amministrano la casa e quindi, boh, mettono mano alla credenza in ordine di colore tutte le statuette di Padre Pio e Padre Lino e, come ospite, tu puoi solo guardare queste statuette nella credenza e dire wow, bellissime, ma se solo provi a toccarne una per spostarla no, 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 non puoi. Solo l'amministratore può toccare le cose di casa e cambiarle. Traslando tutto in computerese, solo l'amministratore può modificare la credenza cambiando i giocattolini sopra, i soprammobili, sì, vabbè, perché lui è il proprietario. Di solito quando accendi un computer per la prima volta e fai il tuo utente, sei un amministratore perché hai bisogno di installare roba e l'essere amministratore te lo permette. Caso specifico, che ne so, voi date a vostro figlio il computer, voi siete l'amministratore e lui è l'utente, l'ospite, come chiamo qua, e fondamentalmente l'ospite non può rovinare la vostra configurazione. Può usarlo tranquillamente, creare file, non è che ci sono grosse limitazioni, ma non può modificare le cose infrastrutturali. Quindi, se vuole installare un programma, poi parliamo anche di quello, non in questa lezione però, comunque deve farlo passando per la tua supervisione. come capisci se sei un amministratore, vai nel pannello di controllo, se a fianco al tuo nome vedi lo scudo, come vedi qui, allora vuol dire che lo sei. Ovunque c'è quell'icona di scudo, vuol dire che c'entra l'amministratore, che deve dare all'ok l'amministratore. Se no, non succede nulla. E come funziona una macchina? Come è fatto il computer? Questo è un po' più tecnico, quindi facciamola breve. Ci sono questi tre grandi attori, che sono la memoria RAM, il microprocessore e l'hard disk, che sono quelli che fanno funzionare un computer. Ora immaginate i dati, tutti i vostri file messi insieme, come l'acqua di una vasca. Quindi io per andare a cercare qualcosa di specifico, devo andare a ravanare dentro questa vasca, devo andare a cercare con casino. Quindi ci mando qualcuno che mi porta quello che mi serve, quello che gli ho chiesto. E quel qualcuno come fa? Mica può portarmi tutta la vasca. Utilizza delle brocche. Più le brocche sono grandi, più roba ci sta dentro. Quindi più roba riesco a caricare. Se voi state cercando le ricevute nel 2002, su come siete riusciti ad evadere il fisco, e sono belle grandi, più muscoloso è il tizio che ve le porta e più sono grandi le brocche, meno fatica farà. Quindi banalmente, se le brocche sono troppo piccole, ci sarà molta poca roba. E se le troppe sono... E se le brocche sono troppo grandi, e quindi l'uomo non riuscirà a sollevarle tutte, allora non le riempirà fino in fondo. Questo è il motivo per cui RAM e processore devono essere estremamente collegati. La RAM è la brocca, in questo esempio. L'hard disk è la vasca. E il bicchiere finale è quello che serve a voi, quello che arriva a voi, quello che dalla brocca il processore vi versa nel vostro bicchiere, che banalmente è lo schermo. Quindi ovviamente le brocche saranno ancora piene, non è che ve le svuota tutte nel bicchiere, vi fa vedere solo quello che voi interessa. Questo è come il computer vi dà le cose. Quindi capite bene che se le brocche sono troppo piene, l'uomo farà molta fatica a portarle in giro. E qui ci colleghiamo ai limiti dei computer. Per capirlo, basta andare nella gestione delle attività. Quello che vedete non è Windows 10, che però funziona in modo analgo. Solo che invece di avere la barra in alto fino in fondo, avrete un'icconcina rossa che vi sta dicendo 100% da qualche parte. Se ve lo sta dicendo, vedete a cosa corrisponde, se non è nulla di importante che avete aperto, chiudetelo, tipo se avete 18.000 schede di Google Chrome, chiudetele. Se invece è qualcosa di importante, fermate un attimo tutto e lasciatelo finire. Se avete un computer di più di 3 anni, vi consiglio, soprattutto se è un computer di fascia media, di non aprire tante schede Chrome e far andare troppi programmi insieme. Questo non lo rallenterà troppo e vi permetterà di fare una vita normale su questo mezzo che non è nuovo nuovo, ma non è neanche vecchio vecchio. Se invece già all'epoca era un computer di fascia bassa, non aprite comunque Chrome, non aprite tanti programmi insieme, ma soprattutto neanche troppe cartelle. E cosa abbastanza fondamentale, quando il computer si accende, aspettate che la clessidra smetta di rampeggiare. Perché vuol dire che sta lavorando, vuol dire che sta finendo di fare tutte le operazioni che fa all'accensione. Una volta che le ha finite, che a noi non importano quali sono, allora potete cominciare a lavorare. Se invece il computer è nuovo, se è di fascia media comunque non aprite tante schede Chrome, perché comunque è una delle cose che occupa più RAM, riempie più le brocche in assoluto, se invece è di fascia bassa, continuate a usare poco Chrome e fate come prima, aspettate che finisca di accendersi. Ebbene, questa era la prima lezione di questo corso. Se queste lezioni ti piacciono e attendi la prossima, iscriviti al canale, metti un mi piace e condividilo con qualcuno che è interessato a capire robe del computer. Io ti saluto, ti auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima lezione. E se ti iscrivi, alla prossima puntata di Occhio al Mondo, il podcast che va in onda ogni mercoledì e ogni domenica alle 7 di mattina, dove parlo di informatica e mondo del web. Ti aspetto anche lì. Ciao. Grazie. 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 Grazie.